rapero un solo grim c'erano una volta un uomo e una donna che già da molto tempo desideravano in vano un figlio finalmente la donna poté sperare che il buon dio esaudisse il suo desiderio sul di dietro della casa c'era una finestrina da cui si poteva guardare in un bellissimo giardino pieno di splendidi fiori ed erbaggi ma era cinto da un alto muro e nessuno osava entrarvi perché apparteneva a una maga potentissima e temuta da tutti un giorno la donna stava alla finestra e guardava il giardino e vide una uola dove erano coltivati i più bei raperonzoli che arrivavano così freschi e verdi che le fecero gola e le venne una gran voglia di mangiarne la voglia cresceva ogni giorno ma ella sapeva di non poterla soddisfare e dimagri paurosamente e divenne pallida e smunta allora il marito si spaventò e chiese che hai cara moglie ah e la rispose e non riesco a mangiare di quei raperonzoli che sono nel giardino dietro casa nostra morirò il marito che l'amava pensò prima di lasciar morire tua moglie vale a prendere quei raperonzoli costi quel che costi perciò al crepuscolo scavalcò il muro entrò nel giardino della maga colse in tutta fretta una manciata di raperonzoli e li portò a sua moglie fila si fece subito un'insalata e la mangiò avidamente ma le era piaciuta tanto e tanto che il giorno dopo la sua voglia era triplicata perché si quietasse l'uomo dovette andare un'altra volta nel giardino perciò il crepuscolo scavalcò di nuovo il muro ma quando mise piede a terra si spaventò terribilmente perché vide la maga davanti a sé come puoi osare e la disse facendo gli occhiacci di scendere nel mio giardino e rubarmi i raperonzoli come un ladro me la pagherai ah dispose siate pietosa a questo fui spinto ad estrema necessità mia moglie ha visto i vostri raperonzoli dalla finestra e ne ha tanta voglia che morirebbe se non potesse mangiarne la collera della maga svanì ed ella disse se le cose stanno come dici ti permetterò di portare via tutti i raperonzoli che vuoi ma ad una condizione devi darmi il bambino che tua moglie metterà al mondo sarà trattato bene e io sarò a lui come una madre impaurito l'uomo accettò e quando la moglie partorì apparve subito la maga chiamò la bimba raperonzolo e se la portò via raperonzolo diventò la più bella bambina del mondo quando ebbe dodici anni la maga la rinchiuse in una torre che sorgeva nel bosco e non aveva né scala né porta ma solo una minuscola finestrina in alto in alto quando la maga voleva entrare si metteva alla finestra e gridava raperonzolo da faccia lascia perder la tua treccia raperonzolo aveva capelli lunghi e bellissimi sottili come oro filato quando udiva la voce della maga si slegava le trecce le annodava un cardine della finestra ed esse ricadevano per una lunghezza di venti braccia e la maga ci si arrampicava dopo qualche anno avvenne che il figlio del re cavercando per il bosco passò vicino alla torre udì un canto così soave che si fermò ad ascoltarlo era raperonzolo che nella sua solitudine passava il tempo facendo dolcemente risuonare la sua voce il principe voleva salire da lei e cercò una porta ma non ne trovò tornò a casa ma quel canto tanto lo aveva commosso che ogni giorno andava ad ascoltarlo nel bosco una volta mentre se ne stava dietro un albero vede avvicinarsi la maga e lo dì gridare raperonzolo t'affaccia lascia pender la tua treccia raperonzolo lascia pender le trecce e la maga salì da lei se questa è la scala per cui si sale tenterò anch'io la mia fortuna pensò il principe il giorno dopo sull'imbrunire andò alla torre e gridò raperonzolo t'affaccia lascia pender la tua treccia subito dall'alto si snodarono i capelli e il principe salì da prima raperonzolo ebbe una gran paura quando gli entrò perché i suoi occhi non aveva mai visto un uomo ma il principe cominciò a parlarle con gran dolcezza e le narrò che il suo cuore era stato così turbato dal canto di lei da non lasciargli più pace e aveva dovuto vederla allora raperonzolo non ebbe più paura e quando egli le chiese se lo voleva per marito e della vita che era giovane e bello pensò mi amerà più della vecchia signora goetel disse di sì e mise la mano in quella di lui e gli disse vorrei ben volentieri ma non so come fare a scendere quando vieni portami una matassa di seta la intreccerò e ne farò una scala e quando è pronta scendo e tu mi prendi sul tuo cavallo combinarono che fino a quel momento egli sarebbe venuto tutte le sere perché di giorno veniva la vecchia ma la maga non si accorse di nulla finché una volta raperonzolo prese a dirle ditemi signora goetel come mai siete tanto più pesante da tirar su del giovane principe quello è da me in un momento a bimba sciagurata gridò la maga cosa mi tocca di sentire pensavo di averti separata da tutto il mondo e invece tu mi hai ingannata fuori bonda afferrò i bei capelli di raperonzolo gli avvolse due due volte intorno alla mano sinistra afferrò con la destra un paio di forbici e tric tac eccoli tagliati e le belle trecce giacevano a terra e fu così spietata da portare la povera raperonzolo in un deserto dove dovete vivere in gran pianto e miseria il giorno in cui aveva scacciato raperonzolo dalla torre assicurò le trecce recise al cardine della finestra e quando arrivò il principe gridò raperonzolo t'affaccia lascia perdere la tua treccia il principe salì ma invece della sua diletta trovò la maga che lo guardava con due occhiacci velenosi ah esclamò beffarda hai venuto a prender la tua bella ma il bell'uccellino non è più nel nido e non canta più il gatto l'ha preso e a te caverà gli occhi per te raperonzolo è perduta non la vedrai mai più il principe andò fuori di sé per il dolore e disperato salto giù dalla torre ebbe salva la vita ma le spine fra cui cadde gli trafissero gli occhi errò cieco per le foreste non manzava che radici e bacchie e non faceva che piangere e lamentarsi per la perdita della sua diletta sposa così per alcuni anni andò vagando miseramente alla fine capitò nel deserto in cui gemelli che aveva partorito un maschio e una femmina udì una voce e gli sembrò ben nota si lasciò guidare da essa e quando si avvicinò riconobbera peronzolo che gli saltò il collo e pianse ma due di quelle lacrime inumidirono gli occhi essi allora si schiarirono di nuovo ed egli poteva vederci come prima la condusse nel suo regno dove fu riabbracciato con gioia e vissero ancora a lungo felici e contenti